A sto alla vista ragazzi, sono sempre io TheGamerT800 ragazzi e oggi siamo in un nuovo episodio su Destiny come al solito E ragazzi allora vediamo un po', vediamo con opzioni, siamo sempre qui con il nostro personaggio ragazzi Devo capire solo un po' meglio il funzionamento del gioco perché non sono comunque abituato Allora qui dice equipaggio con X e ci dice, no smonta, dettagli, smonta, no Quindi io direi equipaggio, perché non equipaggio, è questo che non riesco a capire, non comune Poi vabbè questa armatura credo vada bene, qui abbiamo le corazze 130 difesa, questa ne ha pochissimo, questa è 125 Questa è più bella, questa qui vediamo E questa qui, ok Io c'ho ancora questa Ok ragazzi, ho questa qui a momento Poi le scarpe, 5 difesa Se non mi interessa sinceramente questa cosa qua, ok Lo spettro Andiamo, anteprima Ok Come armi ragazzi abbiamo Questa 130 attacco, 5 attacco, 130 attacco Vediamo quella un po' più forte tra queste Vabbè più o meno sono tutte forti Allora io direi di prendere ragazzi una che non avevo mai preso Cadenza Favamo questa qui ragazzi Che non ho mai preso, bellissima Questa come fucile 127, 130 Ok E questa come arma primaria abbiamo già scelto Questa come arma secondaria Anche questa 120 attacco che vedo qui Tipo questo qui Fucile di precisione, fucile a fusione Fucile a pompa Fucile a fusione, fucile a pompa Prendiamo tipo questa a pompa ragazzi Di qualche altro abbiamo Veicolo, abbiamo sempre lo stesso veicolo Navi, sempre quelle La mia luce e un martello prima Anteprima sarebbe Ah ok Il ballo ragazzi Anteprima Vai dai mi piace questo Ok Equipaggio scelta per cambiare il colore della tua armatura Che colore diventa la mia armatura? Oh raga Un bel colore dorato Sul dorato Su quel giallo che piace a me comunque Va bene ragazzi Ok abbiamo finito Quindi qui ci dice Qua ci dice Questo è il nostro Deggio Grimorio Ok Quindi imposta destinazione Terra Andiamo su Noi avevamo fatto tutti questi ragazzi Livello 2 Antica rossia Fattori cosmodromo Livello 4 L'oscurità dentro Livello 3 L'ultima parabola Livello 6 Adesso direi di fare Uno più basso di livello Sempre O questo livello 4 Questo no Questo qua ragazzi Direi di fare la mente bellica Livello 4 Quindi andiamo a fare Lancio Se lancio Giusto Ok Vabbè c'è la solita sequenza di lancio Raga che voi sapete che io Vorrei saltare Però Il gioco bisogna goderselo In tutto In tutto Veramente Anche se non è interessante Questa scena Come dico sempre È interessante comunque In tutto L'avanguardia dice che i caduti Stanno analizzando Tutti i macchinari del cosmodrome Comincio a pensare Che non sia Un semplice saccheggio Ok Quello che cercano Lo dobbiamo trovare prima noi Vabbè Lo troviamo prima noi Ok Quindi Diamoci un po' da fare Ok ragazzi Ok Chi siamo? Siamo pronti ragazzi? Sempre noi? Che ci dice? Ah di qua? Forse La continua Non lo so Forse partiamo di qua Ok Mamma mia ragazzi Ok Ok Mamma mia raga Proprio oggi Alla grande Ok Ti butto una granata Te la vedi tu eh Ok Ok Oh Qua vediamo un po' di munizioni Munizioni varie Cosa Oh È un engramma criptato Da capo Ok ragazzi Corriamo un po' Che ci dobbiamo sbrigare I caduti I caduti I caduti lavorano a qualcosa In fondo alla stanza Ok Ok Ti dobbiamo sbrigare Ti dobbiamo sbrigare Ti spacco Ti spacco No 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 Io direi di aspettare Per questa No Perdiamo forse più tempo Questa è più di attacco ravvicinato Raga Condividete con me Questa cosa qua Oh Potenzialmente sbloccato Ho visto ragazzi Sopra Oh Che ci dice Qua evoca lo spettro Oh Il mio spettrino Che fa tutte le cose Che cazzo è sta roba Ah raga La super è stata caricata Ok perfetto Quindi adesso ci diamo un po' da fare Oh Che bello raga Quando ci fanno ste mosse Che distruggono L'intero universo Allora Oh Ehi ti do un cazzo di puni in faccia Vediamo se non si spacca la faccia Cazzo di maghi di merda Oh 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 No mi sa che me ne devo un po' andare di qua raga Ah sta pure questo di qua Che mi sparava Ecco che cazzo era Oh Non sono un codato raga Ma Non voglio morire adesso Oh Oh Che bello Quando muoiono i nemici Non muoio io Merda Ma che cazzo è Munizioni speciali al completo Guardate il tempo di ricaricare però eh Oh Oh raga Una cosa speciale Tarondant tipo 1 Sarà Mo' vediamo Oh Oh Super caricato ragazzi E vai con la super Sì Ok Il mio amico sta ancora lì a fare i morti che ha Muoviti dai porca puttana Che cazzo è quella cosa Oh merda Servitore raga Un nuovo nemico Oh Ok Oh Esploso i servitori Melle aperti Raga Ok Adesso Perfetto Adesso dovremmo andare Ancora sto cazzo di servitore All'altro Eh porca miseria Proprio Mi fate venire i nervi eh Ma li volete proprio far venire Ho notato che la I livelli Ragazzi si fanno Ragazzi si fanno sempre più difficile Normalmente Perché stiamo andando male Però a livello qua stiamo ancora Ho fatto livelli Molto più alti Tipo livello 6 Ma era Più facile Boh Ok dai Andiamo sopra Mi sono rotto il cazzo eh Oh Un colpo di fucera a pompa Si è giusto a tutto Lo cazzo si è andato E vieni qua Avete visto raga Oh Chi non mi ascolta Fa la fine di quella persona là Oh Perfetto Va bene ok Questo? Come devo fare? Perfetto ragazzi Missione completata La mente è bellica Fine missione Secondi rimanenti 24 Quindi potrebbero arrivare Aspetta Le leggende sono vere Una mente bellica Sopravvissuta al croco Questo è Rasputin Una IA Creata per difendere la terra E sta proteggendo qualcosa qui nel cosmodromo Informerò l'avaguardia Oh raga ecco Perfetto Guarda che bello il mio soldato Allora potenzialmente Non ho avuto manco tempo di leggere Fermati un attimo Non correre così forte Oh Ho visto Ricompense Due fucile Quindi Quindi ragazzi Direi di chiudere quel video Perché normalmente Vi dico sempre Che non posso arrivare oltre Quindi ragazzi Lasciate un like Condividete E iscrivetevi Se non siete iscritti Alla prossima